ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale mario dedo oggi siamo su minecraft e vi mostrerò come cambiare la vostra skin andiamo su un qualsiasi browser andiamo a scrivere skin minecraft e clicchiamo su un sito per poterla scaricare eventualmente in allegato vi metterò qualche sito sicuro fate naturalmente sempre attenzione dove andate allora clicchiamo su questo primo sito qui vi mostrerà tantissime skin c'è anche sopra la possibilità di ricerca ne andiamo a scegliere una di nostro gradimento prendiamo ad esempio questa e andiamo a scaricarla vi scaricherà un file png lo andiamo anche a vedere un file del genere adesso ritorniamo su minecraft clicchiamo su nuova skin andiamo a selezionarla io naturalmente vi consiglio di metterle in una cartella in modo da trovarle facilmente allora la skin da noi scaricate questo è qui quindi facciamo apri ed è questa mettiamo un nome ad esempio la chiamiamo black adesso possiamo fare o salva o salva e utilizzarla subito facciamo prima salva per utilizzarla basta andare sulla skin e facciamo usa come vedete la nostra skin è stata già cambiata la skin infatti risulta aggiornata adesso ci basterà aprire un qualsiasi nostro mondo per vedere la nostra skin nuova facciamo quindi gioca ed eccoci qui ragazzi con la nuova skin appena scaricata ok io vi saluto per questo episodio vi ricordo like questo video iscrizione al canale e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi